Innanzitutto grazie a milioni e milioni di italiani che non hanno sconfitto solo Renzi, Laboschi, Alfano, Verdini, ma hanno sconfitto anche una parte asservita di cosiddetta classe dirigente italiana. Penso ai vertici Confindustria, penso ai vertici Coldiretti, penso a tutti i sì interessati che hanno dimostrato come certe caste dirigenti non rappresentino più coloro che paga loro la tessera e lo stipendio, quindi oltre a Renzi penso che ci sia qualcun altro che debba rendere conto ai suoi finanziatori, ai suoi rappresentati del fatto che il voto di ieri è stato un sonoro schiaffone a chi pensa che gli italiani dipendano dall'indicazione di altri. Ci sconcerta il toto premier di queste ore, pessimo gusto, vuol dire fregarsene di quello che gli italiani ieri hanno scelto, hanno indicato la volontà di partecipare, di votare il prima possibile, quindi non ci uniamo né ci uniremo al toto nomine, al casting, Padoan, Del Rio, Franceschini, Grasso, se quando il presidente Mattarella ci convocherà noi ribadiremo alle elezioni subito, il prima possibile, con qualunque legge elettorale la consulta consegnerà al Paese, ci rifiutiamo di ipotizzare di perdere altri 5, 6, 7, 8 mesi di tempo sull'Italicum, il consultellum ed intorni. C'è tanto da fare, Renzi lascia un Paese economicamente in ginocchio, l'ultimo in Europa per crescita, un sistema bancario sull'orlo del collasso per colpa di Renzi e dell'Unione Europea, non per colpa del no, e quindi c'è da rimboccarsi le maniche, c'è una manovra economica elettorale con miliardi e miliardi di euro che non esistono, questo ha cercato di raccattare sì da nord a sud promettendo aumenti, promettendo contratti, promettendo bonus, promettendo 30, 50, 80, 500 euro che non ci sono, quindi noi unicamente nel merito dei numeri e dell'utilità del Paese su questo siamo disponibili a ragionare con chiunque per chiudere i buchi che ha lasciato l'ormai dimesso, però ripeto, la strada maestra è il voto subito. Prima possibile con qualunque legge elettorale, noi stiamo già lavorando per portare in tutte le piazze italiane da nord a sud il nostro progetto, la nostra squadra, il nostro programma e la nostra candidatura a guidare il Paese che ovviamente non è un salto nel buio, a differenza di altri che campano di no da anni e poi alla prova del Governo a Parma come a Roma, mi sembra si dimostrino assolutamente non all'altezza, noi abbiamo da portare in dote agli italiani il buon Governo del Veneto e della Lombardia da più di 20 anni, sono le regioni che costano di meno, che producono di più e che danno servizi migliori, quindi l'invito sarà esteso a tutti gli alleati che hanno voglia di sottoscrivere un programma che però assolutamente non ammetterà incertezze nei rapporti con l'Unione Europea, nel superamento dell'euro, nel tornare a essere padroni della moneta, dei confini, delle banche, dell'agricoltura, del commercio, dei mari, della pesca e quindi su questo non ci saranno vie di mezzo possibili, qualunque leadership e qualunque programma dovrà essere sostenuto, sottoscritto, votato e scelto dai cittadini italiani, non sono ipotizzabili candidature calate dall'alto o scelte a tavolino. Un'altra indicazione del voto di ieri è questa. Ho sentito Giorgia Meloni e mi sono congratulato, ho sentito Giovanni Totti e mi sono congratulato, conto di sentire nelle prossime ore da Silvio Berlusconi a Raffaele Fitto agli altri protagonisti di questa incredibile ed eccezionale e emozionante vittoria. Ringrazio tutti i no di qualunque provenienza, anche lontanissima da me, dal no dell'Ampia, al no della CGL, al no dei 5 Stelle, al no di SEL, al no dei professori, perché è stata una vittoria epocale inimmaginabile fino a due giorni fa, Davide contro Golia, il popolo contro i poteri forti e milionari, peraltro. Mi risulta ci siano fibrillazioni e linee telefoniche bollenti fra Bruxelles, Francoforte, Berlino e Roma. Sono ben contento che questa gente sia preoccupata del suo futuro. Vigileremo affinché Renzi non faccia l'ennesima capriola, ci ha abituato a dire una cosa, a far l'esatto contrario. Quindi quelle che erano dimissioni a mezzanotte, contiamo continuino a essere dimissioni anche alla mezzanotte del giorno dopo e quando verremo convocati al Presidente Mattarella esprimeremo la volontà dei milioni di elettori che rappresentiamo di poter votare, scegliere e decidere il prima possibile con un Parlamento nuovo. Sicuramente ci saranno delle resistenze, sicuramente ci saranno parlamentari che vorranno tirare a campare per portare a casa la pagnotta per un altro anno e mezzo. Riteniamo che non ci sia tempo da perdere. Un pensiero va agli amici austriaci del Partito della Libertà di Strahe, sconfitti alle presidenziali per un pelo ieri nell'ottica del tutti contro uno. Ho sentito Strahe, ci rincuora il fatto che il tutti contro uno alle elezioni politiche in Austria non potrà essere ripetuto perché lì non c'è il ballottaggio che potrà dar vita al minestrone, popolari, socialisti, democristiani, verdi, liberali e chi più ne ha più ne metta. Quindi possono fregarti una volta, possono fermarti una volta come hanno fatto con Marine Le Pen alle regionali in Francia. Anche Renzi ha fregato gli italiani per una volta però la seconda volta non ti riesce e quindi contiamo che il 2017 sarà l'anno della riscossa dei popoli d'Europa ad amplissimo livello, non solo in Italia, non solo in Francia ma penso all'Olanda, penso alla Germania e penso a tutte le altre scadenze elettorali salvifiche che sono in vista. Se ci sono domande rispondo volentieri. Non siamo disposti a sostenere nessun governo che tiri a campare, siamo disponibili a votare con qualunque legge elettorale la consulta ci metta in condizioni di votare sperando che lo faccia in fretta. Io ho le mie preferenze personali ma le mie preferenze personali mentre l'Italia ha fretta contano men che zero quindi te lo dico dopo in cortile qual è il modello elettorale che preferisco. Se no poi qualcuno dice la Lega punta, non me ne frega niente, con qualunque legge elettorale, il consultellum, il mattaremmo, il porcellum, il proporzionale, premio senza premio, con lo scorporo senza scorporo o col maggioritario. No, no lo sento e sono andato a letto tardi io, sarà andato a letto tardi anche lui, adesso in un orario più consono chiamo dai. No, non lo so, non sono sicuro di niente. Entrando nel merito, secondo me il voto di ieri dice che gli italiani vogliono chiarezza, chiarezza, una legge elettorale proporzionale in base al quale tu voti qualcuno che poi non si sa con chi andrà a governare e chi porterà quei voti non è chiara. Quindi una legge elettorale che porta alle grandi coalizioni, alle mucchiate, tutti dentro, socialisti, democristiani, giusto per lasciare fuori qualcuno. Ecco se qualcuno pensa di passare dei mesi di tempo, di togliere dei mesi di tempo agli italiani per fare una legge elettorale che escluda i populisti, qualcuno si ponga al problema del fatto che i populisti stanno diventando maggioranza non solo in Italia ma in Europa, quindi probabilmente o cambiano il loro vocabolario o verranno spazzati via dalla storia. Scusa Matteo, con chi pensi di fare l'alleanza nell'area di centro-destra? Perché numeri alla mano, ad oggi se si andasse le elezioni non hai la maggioranza e quindi il rischio poi è di consumare il paese a Beppe Grillo, questo è, sono le nazi che si fa. Tu invece conti di riuscire a farcela coalizzando tutta l'area di centro-destra che va da... non so, dall'NCD fino a voi passando per consigliare? No, non direi NCD, è un bel lunedì, non si dice NCD, un lunedì come questo, quindi non è... coalizzare quel 50% degli italiani che non votavano in parte ieri sono tornati a votare, perché tutti i geni della politica dicevano vota poca gente, vanno a votare il 50%, siamo quasi al 70%. Quindi A, se c'è un progetto chiaro, una battaglia chiara e torna a votare gente che non vota da 5, 10, 15, 20 anni. Quindi se tu hai un progetto politico alternativo a Renzi e ai 5 Stelle, chiaro e ben definito e quindi esclude gli Alfani, Gardini, Cicchito, Itosi, Casini, tutta quella compagnia briscola lì, sicuramente riporti a votare ad aver fiducia e ad aver passione milioni di italiani. I confini sono quelli di cui parlavamo, posizione, un movimento, una federazione, non penso ai partiti unici, ho l'allergia al partito unico, al pensiero unico, all'uomo unico, al cibo unico, una federazione di identità diverse che però hanno un progetto comune, che sia alternativa a questa Unione Europea, che preveda sovranità monetaria, controllo dei confini, che riveda il Jobs Act, che riveda la buona scuola, che superi la legge Fornero e che riveda il sistema fiscale nel nome della flat tax e della rivoluzione con cui peraltro ha vinto anche Trump negli Stati Uniti. Chi ci sta? Questo è il nostro progetto, attenzione, non è perché ti ho chiuso, io sono bello bravo o mangi sta minestra o salti sta finestra. Su questo però, sulla sovranità monetaria non è mediabile, non è negoziabile, o è o non è la difesa dei confini, o è o non è. Io penso che ci siano tante sensibilità politiche disposte a sostenere questa battaglia, soprattutto tanti italiani che non votavano più, delusi dal centro-destra, a vecchia maniera, pronti a tornare a darci fiducia. Anche l'uscita dall'euro è un problema che ci prenderà? No, ma il problema non è l'uscita dall'euro, l'euro è già uscito dalla storia, dall'economia, dalle borse, dai mercati. Il problema è preparare il giorno dopo. Questo non è Salvini che rotta ma l'euro, è l'euro che è una moneta partita come un esperimento contro natura, che è finito come finiscono gli esperimenti contro natura, contro un muro. Quindi i primi che riescono a trovare la via d'uscita sono quelli che ne pagano minori conseguenze. Della squadra, io sono uno della squadra. Certo, quando dico che i leader non si autoproclamano o non escono da un summit di partito, dico che chiunque voglia guidare deve avere l'ok popolare, il consenso popolare da nord a sud. Entro veloce, sperando noi di votare il prima possibile, escludendo di rompere le scatole alla gente fra Natale e Capodanno, evidentemente, organizzativamente, politicamente parlando, il prima possibile. Perché no? È vero che fa freddo, però... Io chiedo, ho chiesto un controgrillo una, due, tre volte. Al terzo no, me ne faccio una ragione e dormo lo stesso. Prima di sì e no ad un governo anche semplicemente per fare la legge elettorale. Questo come si concilia con le posizioni di Forza Italia che invece dicono, forse, ad un governo per decidere una nuova legge elettorale, il primario no, perché Berlusconi c'è e lui il leader no. Non so, chiedetelo a Forza Italia. Io spesso la posizione della Lega che è lineare, coerente, chiara, salda da mesi, anzi da anni, a questa parte. Noi non abbiamo mai cambiato idea. Ripeto, sicuramente qualunque candidatura deve passare dall'ok degli italiani, con qualunque forma, vedi, ha le regole, mica le regole, non stiamo lì ad attaccarci al pelo, nell'uovo, come si vuole. E se domani ci propongono il minestrone Padoan, piuttosto che il minestrone riscaldato, che arriva da Bruxelles, mi sembra chiaro ed evidente che noi diciamo no. E chiunque si presti a giochini di potere che vanno contro il voto degli italiani di ieri, evidentemente mette in discussione qualsiasi tipo di futuro rapporto. Il presidente di Forza Italia è Silvio Berlusconi, quindi io parlo con Silvio Berlusconi. Come peraltro da ieri sera a stamattina ho parlato con tanti sindaci, tanti consiglieri regionali, tanti amministratori locali e tanti parlamentari di Forza Italia che hanno l'idea assolutamente chiara. Perché Milano città non esiste in un po' di po' di po'. Nemo profeta in patria. Milano città appena rieletto Sala, tranne poi lamentarsene, e vabbè, lavoreremo ancora di più. Milano città, poi c'è Milano e Milano, perché ovviamente la Milano radical chic ha votato in una certa maniera, la Milano con i piedi un pochino più piantati per terra ha votato in maniera diversa. Però ormai lo scontro è fra le elite, che sono sempre meno elite, e il popolo, che è sempre più popolo, e quindi arriveremo a raccogliere la mela anche a Milano. Non mi interessa minimamente, spero solo che le guerre interne nel PD non tengano fermi il Parlamento e il Paese per i prossimi mesi, poi è chiaro che lì un pochino di dibattito ci sarà, però speriamo che sia rapido e incruento. Però non entro nel merito dei problemi altrui. Sì, sì, ero commosso per il fatto che si è tolto di torno, quindi ero felice e commosso ed emozionato. L'onore delle armi? Si cede sempre, però ripeto, siccome ci ha abituato a delle giravolte incredibili, vorrei concedere veramente l'onore delle armi quando lo vedo con gli scatoloni che esce da Palazzo Chigi, e allora lì andrò a stringergli personalmente la mano. La Boschia è pianto. La Boschia è pianto. Tanti risparmiatori di banca Etruria hanno pianto per la Boschia, e quindi anche la Fornero aveva pianto. Evviva! Eccolo, facciamo bene ad alzarci. C'è la tara, la valentica sta roba del congresso della Lega. Se si va a votare, prima vengono le elezioni politiche, evidentemente. Se ci lasciano un po' di spazio faremo anche il congresso. Però le elezioni politiche arrivano un attimo prima in ordine di importanza rispetto al congresso della Lega. Questa domanda. Lei come valuta l'accordo della Lega? Fondamentale. Le cifre? No, no, no. Non sparo numeri a caso. Io ho sentito altri che hanno detto io controllo un 3%, il merito mio è il 6%, io il 13,3%. Non lo so, non ne ho idea. Dico solo che l'apporto della base della Lega, per tornare al congresso della Lega, è stato determinante, emozionante, passionale e fondamentale. Perché, ripeto, altri si muovono coi click. Io ho visto che qualcuno sta preparando un programma di governo, una squadra di governo coi click. Solo che se c'è il blackout, fermi il click, fermi il paese, fermi tutto quanto col click. Noi oltre i click abbiamo l'orgoglio di avere la pagina fan più frequentata e più animata di Facebook. Però se ci fermassimo solo a questo saremmo dei poveretti. Io ricordo che la Lega sono 1500 sedi su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, autofinanziate, aperte dalla sera alla mattina da volontari. Quindi penso che, senza voler strafare, il contributo delle donne e degli uomini della Lega sia stato assolutamente eclatante, fondamentale. Penso alla regione, ecco, poi penso appunto, la Boschia Pianto, non penso che la Serracchiani abbia riso. Perché più parla, più perde. Il no in Friuli Venezia Giulia ha raggiunto vette insormontabili, per cui ringraziamo l'ex presidente Friuli Venezia Giulia, Deborah Sorracchiani, di cui siamo pronti a raccogliere il testimone con l'ottimo Massimiliano Federiga. Il dato del Veneto è stato assolutamente, palesemente, abbondantemente incontrovertibile. Se fossi nei panni del sindaco di Venezia qualche problema e qualche domanda me la porrei, però non voglio strafare, perché bisogna riconoscere l'onore delle armi, a uno che comunque ha combattuto come un leone, distantissimo da me, che comunque ha fatto una battaglia fisicamente e politicamente impegnativa. Fortunatamente per noi e per l'Italia sconfitta, però ci ha messo la faccia, ci ha messo soldi anche se non li aveva, ci ha messo l'elicottero, però si è impegnato assolutamente dalla sera alla mattina. No, però qualche nome di personalità esterne alla Lega, ma anche la politica per alcuni tratti che mi piacerebbe coinvolgere in una squadra di governo del Paese, ce li ho ben chiari in testa. E' viva, ieri abbiamo vinto all'86esimo con gol di Lapadula, quindi fino al 90esimo va tutto bene. Quindi l'apporto di Berlusconi per il no è stato assolutamente importante, è stato assolutamente importante, nonostante pezzi di partito e pezzi maggioritari di azienda rimassero dall'altra parte, quindi grazie e gratitudine sincera per il contributo che Silvio Berlusconi ha dato alla vittoria del no. Sì, noi l'abbiamo studiata, ragionata e documentata al 15%, se qualcuno mi convince e convince la nostra squadra del fatto che si può fare al 16,3% al 17,3%, per carità di Dio, non mi attacco al numero. Però il principio di una rivoluzione, di una semplificazione fiscale è assolutamente imprescindibile. Chi vuole realiarsi con noi, questo nel programma lo deve avere, però deve volerlo realizzare. No, no, abbiamo messaggiato sia con Marine che con Marion, dall'estero sono arrivati tanti segnali di gioia, non da parte di Juncker, di Schulz, della Merkel, ma da parte dell'Europa sana, sono arrivate le congratulazioni. No, perché permette minestroni ammucchiate senza che gli elettori lo sappiano prima del voto. A me piacerebbe che gli elettori nel momento in cui ti votano ti scelgano come partito di governo. Col proporzionale ci sono le grandi coalizioni dove da destra, sinistra, da sopra, da sotto, ci si inventano governi che non sono né carne né pesce. Ringrazie.